Trace per Novamont è una piattaforma di open innovation a sostegno della bioeconomia. L'obiettivo è identificare soluzioni tecnologiche che possono dare un beneficio all'economia circolare. L'open innovation è circolare per definizione, si allontana dai vecchi paradigmi del usa e getta della old economy. Novamont rappresenta il fiore all'occhiello dell'economia circolare. Con la capacità di rigenerare nuovi siti industriali per produrre nuovi prodotti. Da qui nasce la volontà di costruire insieme un percorso che potesse permettere ad altre aziende di riqualificare i propri prodotti e le proprie soluzioni e di riproporle in chiave circolare.